Qua è importante appuntamento a Messina, siete riusciti a portare il secondo congresso regionale del CREI Sicilia, quale contributo state dando in questi giorni qui a Messina? È un momento particolarmente difficile per la reumatologia in quanto la recente rete ospedaliere citata dall'assessorato alla salute della Sicilia ha tagliato completamente tutti i posti letto, tutte le reumatologie della Sicilia a tappeto e noi ovviamente insieme alle associazioni malate Siamo intervenuti in maniera molto energica devo dire e forse è stata la prima volta nella storia della reumatologia che abbiamo dimostrato una coesione così importante che spero possa dare i suoi frutti perché noi siamo molto fiduciosi in una revisione del piano Avete presentato le 5-6 pratiche di inappropriatezza per la terapia del dolore cronico in reumatologia Di cosa si tratta esattamente? Dunque Slow Medicine è un'associazione mondiale che ha anche una filiale italiana di cui uno dei responsabili è il professore Nico Cia della nostra azienda Papardo che un anno fa proprio al primo congresso regionale CREI mi chiese di formulare 5 raccomandazioni a rischio di inappropriatezza in reumatologia. Noi le abbiamo fatte e hanno avuto un grande successo tanto che mi hanno chiesto di farne altre 5 sul dolore cronico e quindi abbiamo insieme al presidente del collegio di reumatologia italiani Stefano Stisa abbiamo istituito una task force composta dai maggiori, dai massimi esperti in tema di dolore cronico reumatologico e di fibromialgia in Italia e abbiamo fatto 5 raccomandazioni che poi alla fine sono diventate 6 in quanto ne abbiamo aggiunto una sull'uso terapeutico della cannabis. Le prime due sono diagnostiche e sono incentrate soprattutto sulla diagnosi di fibromialgia che è una patologia che è spesso misconosciuta e confusa con tante altre patologie che danno anche alle altre dolore cronico diffuso. La terza e la quarta sono due raccomandazioni sulla terapia del dolore cronico, la quinta è una raccomandazione sulla terapia fisica, squisitamente fisica della fibromialgia e del dolore cronico diffuso, la sesta è una raccomandazione sull'uso terapeutico della cannabis. Presenterete tutto a Roma nell'ambito del congresso nazionale e sarà lei a presentare queste 6 raccomandazioni? Sì, infatti oggi noi qui abbiamo presentato la proposta delle raccomandazioni che poi io a Roma presenterò al congresso nazionale, dopodiché verrà sottoposta a Slow Medicine come già è stato fatto per le precedenti raccomandazioni e verranno pubblicate su Slow Medicine e poi molto verosimilmente ne verrà fatto un editoriale sul giornale italiano di reumatologia clinica come già è avvenuto per le precedenti raccomandazioni. Grazie a tutti!